Intervista al violinista Alessandro Quarta che apre le note della Natività ad Alba. Vanno all'asta per 21 milioni i vecchi ospedali di Alba e Bra. Alba si attrezza di 18 colonnine per auto e bici elettriche. In Piemonte 5 ragazzi su 100 colpiti da dislessia. Fa discutere in regione la proposta leghista sui campi nomadi, la testimonianza di chi vive accanto a Zingari, Giostrai e Cecensi. Alla fiera del Tartufo è il momento di cioccolato e grappe. Per la fiera di San Martino, Carrasco propone il biologico e parordo la bagna cauda. Secondo Italia Nostra e Bra e la città cunese con più cemento e meno verde. Poste Italiane soddisfa i piccoli comuni con il postamat, ma la consegna dei giornali è sempre in ritardo. Questa e tant'altra notizia su Gazzetta d'Alba, in edicola e online dal martedì.